Un augurio a tutti i pugliesi e anche fuori dalla Puglia, da parte del centro polivalente la Chimera che organizza questo presepe oramai da 23 anni. Non è il tradizionale presepe che si vede, noi abbiamo voluto rappresentare praticamente un villaggio, il villaggio di quando eravamo noi bambini come si viveva nelle case, tutti quanti in una stanza con gli attrezzi che si usavano in casa e in campagna praticamente, siamo giunti alla ventitresima edizione, questo grazie sempre ai visitatori che io ancora una volta invito a venire a Mariotto a visitare questo villaggio della Natività. Noi ripeteremo il presepe vivente questa sera, domani sera il giorno di Santo Stefano, il primo dell'anno, il 6 gennaio con l'arrivo dei Magi e l'8 gennaio. Mi raccomando cercate di farci visita perché vedrete qualcosa che non immaginate nemmeno perché ognuno pensa di venire a Mariotto a vedere il solito presepe. No, non è il solito presepe, vedrete qualcosa veramente di eccezionale perché tutte le persone, tutti i visitatori che sono venuti ogni anno sono rimasti incantati da questo villaggio. Vi invito ancora una volta da parte mia dell'Associazione del Centro Polivalente della Chimera, da parte della parrocchia Maria Santissima Adolorata che in collaborazione con noi organizziamo questa manifestazione oramai da 23 anni. Grazie a tutti.